Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Buonasera a tutti i nostri ascoltatori Continua la rivoluzione in società Tra le varie cariche da ricoprire Uno dovrebbe ricadere su Gabriele Omar Batistuta Con il ruolo di team manager L'argentino sarà il tramite tra squadra e dirigente Con il compito speciale di trasmettere il valore della maglia ai giocatori E con il ritorno di Pradè Un altro ex dirigente gigiato Dovrebbe rientrare nella società Viola Ovvero Roberto Ripa Ex club manager carica ricoperta in casa Fiorentina Dal 2004 al 2016 Andiamo a vedere le ultime di mercato Il PSG su Verretour Leonardo, grande stimatore del giocatore Farà arrivare nei prossimi giorni Un'offerta ai uomini mercato di commisso Atalanta in pressing sul Sevilla per Muriel I bergamarchi vogliono approfittare del non riscatto della Fiorentina Per Fiorentina1.com Antonio Tedesco Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola